Vittoria sul Nardò che vale il sorpasso al secondo posto, tre punti di distacco dalla capolista Cavese e domenica prossima al Fanuzzi, c'è proprio la sfida contro i Campani, il Brindisi ora ci crede come mai accaduto prima in questo campionato, la squadra di Mister Danucci vince per due reti a zero al Giovanni Paolo II e mette insieme il decimo risultato utile di fila per il Nardò, la prima sconfitta casalinga della stagione complica i piani di Vittoria ora appesi a un filo, partita a ritmi elevatissimi al Giovanni Paolo II, entrambe le squadre sanno bene il peso della posta in palio, pronti via, D'Ambros vuole subito mettere le cose in chiaro, pallone troppo alto, dall'altra parte D'Amaco conclude debolmente in porta, Viola appara a terra, brividi per il Brindisi sulla botta da fuori di Ferreira, Wismanare spinge, poi blocca la sfera evitando il corner, la risposta degli ospiti è affidata ancora D'Amaco, altra conclusione, Viola è reattivo, prima dell'intervallo i Neretini ci provano in ripartenza, D'Ambros per Ferreira, botta violenta che non inquadra di poco lo specchio di porta e 0-0 dopo i primi 45 minuti, ad inizio secondo tempo partono meglio i ragazzi di Ragno, Ferreira prova il sinistro da fuori, impreciso, poi lo stesso attaccante su angolo battuto da Montinaro, di testa e tutto solo, non impatta bene la sfera, azione che sfuma sul fondo, al 59esimo il Brindisi passa, D'Amaco riceve il pallone in aria, si destreggia e trova lo spazio per la conclusione, serie di tocchi, la sfera finisce in rete, 1-0 Brindisi, compagni che festeggiano con il numero 10, una rete pesantissima, il Nardò accuse il colpo e poco dopo rischia di subire il raddoppio, Santoro semina il panico in aria, la conclusione difesa in affanno che libera con la zolla. Seguono le polemiche in casa Nardò, D'Ambros entra in aria e cade a terra, per l'arbitro non è calcio di rigore, attaccante a monito, per proteste eccessive, il Brindisi non arretra ma anzi prova a chiuderla, ci prova D'Anna dalla distanza, Viola la tocca in angolo, dall'altra parte D'Ambros ha una chance ma il suo diagonale è impreciso, al 74esimo Tegola sul match dei Neretini, arriva il secondo giallo per Ferreira, Nardò in 10 uomini ma non ancora ad uomo, Gionai infatti cerca il pari con una conclusione velenosa, Vismara gli dice di no, poi all'89esimo si chiudono i giochi, Felleka semina il panico in aria, Nardò, tiro ribattuto, palla che arriva a D'Anna, conclusione in rete, Brindisi 2, Nardò 0, il capitano esulta con la tifoseria ospite, cala il sipario sul match, il Brindisi ora ha il destino nelle sue mani, domenica prossima al Fanuzzi si giocherà tutto contro la Cavese, per il Nardò le speranze sono ridotte al minimo e nel prossimo turno sarà sfida al Puttilli di Barletta.